Per le consuette sezioni di teatro, televisione, radio, giornalismo, cinema e narrative anche quest'anno, nomi illustri ai 46 premi Fraiano che saranno consegnati domenica 7 luglio a Piazza Salotto a Pescara. Per il teatro, la giuria composta da Masolino D'Amico, Giovanni Antonucci, Antonio Calende, Gianfranco Bartolotta ha deciso di consegnare due premi alla carriera a Piera degli Esposti e Massimo De Francovic. Gli altri premiati sono Gabriele Lavia, Jacopo Gasman, Antonello Avallone, Alessio Esposito e Lillo per il musical The School of the Rock. Roberto Balducci, Alessandro Bencivenni, Stefano Reali e Babari Scherma della giuria a televisione, radio e giornalismo hanno segnalato invece cinque nomi Andrea Purgatori, Lucio Pellegrini, Tommaso Ragno, Roberta Giordano, Simone Massi e Antonio Ferrari. Premio Fraiano della Presidenza, Ludovica Nasti dell'Isa del Gelio, le due splendide bambine protagoniste della fiction L'Amica è geniale. Per il cinema la giuria preseduta da Giuliano Montaldo è invece assegnato i riconoscimenti a Rocco Papaleo, Michela Ramazzotti, Carla Signoris, Francesco Piccolo, Fabrizio Corallo, Roberto Andò, Francesco Gagliardi e Stefania Capobianco, premio speciale al compianto regista Carlo Vanzina. E poi c'è la guest star dei premi Fraiano che è Steve McCurry, grande fotografo, divulgatore e documentarista che quest'anno in esclusiva verrà per noi dagli Stati Uniti anche per presentare poi l'8 di luglio il suo ultimo libro edito da Mondadori.